Buongiorno a tutti, oggi ci torniamo alla chiesa di San Nicolò a Cercina di Lanzano. Abbiamo un concerto di quattro campane. Adesso ascolteremo la santa messa delle dieci punto. E poi la santa di mezzogiorno, qui fra un tempo lo faccio vedere. Questo è il campanone, questa è la mezzana, la santa mezzana e la cessa piccola codicella. Adesso ascolteremo la messa delle dieci punto e poi la santa di mezzogiorno. Quindi a presto da Edoardo Campanaro 2008 e buon ascolto a tutti. Ciao! 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 Oh! Ecco lì! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.